Carissimi telespettatori ben ritrovati, le elezioni europee dunque sono ormai alle spalle. La Calabria ha eletto quattro europarlamentari, due per il centrodestra, Princi e Nesci, uno per il centrosinistra, Tridico e poi Mimmo Lucano per la sinistra un po' più radicale più movimentista. È abbastanza evidente che si tratta di una pattuglia particolarmente composita, nel senso che ognuno di questi eletti è portatore di un messaggio diverso da quello degli altri, ma comunque vedremo come si comporteranno ovviamente auspicando che faranno bene e che faranno bene anche per la Calabria. Passata la sbogna elettorale però secondo me c'è da tirare alcune somme e non sono positive, anzi possiamo dire che sono negative. Il primo dato che affrontiamo è quello dell'affluenza che purtroppo è ulteriormente peggiorata in Calabria. In pratica queste europee non ha votato nemmeno un calabrese su due. E questo dato negativo ovviamente non si può porre semplicemente in relazione al fatto che si è votato per le europee, per l'Europa, che resta comunque un'entità molto distante dalla Calabria. In realtà la disaffezione dei calabresi alle une è ormai un dato strutturale, un dato ormai cronico e storicizzato. Questo significa che c'è una Calabria, c'è una terra che probabilmente non crede più al voto e non crede più quindi alla politica. Questo ovviamente è particolarmente negativo. Poi l'aspetto dei contenuti. In questa campagna elettorale c'è stata molto poco a Calabria, molto poco sud anche. Il dibattito politico è stato fagocitato, addirittura drogato dai temi nazionali. Per esempio il tema del ruolo della Calabria mediterraneo non è assolutamente comparso e quindi si è perso un'ulteriore occasione per ragionare seriamente sul futuro della nostra regione. Tutto questo alla fine delinea un quadro negativo che speriamo venga smentito poi nel futuro.